Proderà un match di Team 1, combattono per la categoria dei 93 kg, accorgiamo a l'angolo blu il commercialista Tommaso Marconi! Entra a l'angolo rosso Paolo Primerano! Le dittorio di Piazza, la Nazionale è stata un'angolo di l'angolo di Piazza, c'è stato un'angolo di piazza di Piazza. Le dittorio di Piazza, il piazza di Piazza, il piazza delle piazza delle piazzette di Piazza. Stop! vai in braccia, vai in braccia, vai in orare sosta a papà! sosta a sotto! vai! ti abbono! ti abbono! stop! rimani a distanza, non mi spazzalo, prendi bene rimanere in braccia, vai! si posta! bravo signori stop! che secondi eh, regà? vai! non mi spazzola, non mi spazzola non mi spazzola, non mi spazzola non mi spazzola, non mi spazzola Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.